Allora, vogliamo far vedere il grande ufficio gigantesco di Audio Natali al Top Audio. Sì, andiamo a vedere cosa succede qua. Abbiamo bisogno di un grandangolare, però. Sì, perché non c'entra tutto. Siamo venisi a trovarvi. Sì, vogliamo vedere questo gigantesco ufficio di Audio Natali al Top Audio. Certo, non avete badato a spese, stavolta. È incredibile. Anche le fatte, con le gnocche. Sono più grandi le casse che l'ufficio. Però il caffè è buono. Il caffè è ottimo. E poi la coziniamo è il caffè. Il caffè è così piccolo perché viene meglio il caffè. Ah, ok, capito. Il profumo, certo. Sì, un pochettino, sì. Poi, bene. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero.